le emozioni provate in questo 2021 sono veramente tante è stato veramente un anno difficile hanno rimandato le gare che aspettiamo da da una vita e alla fine siamo riusciti a farle siamo veramente soddisfatte contente quindi veramente tante belle emozioni dopo tanta fatica adesso stiamo provando nuovi esercizi stiamo creando nuove coreografie per questo 2022 in cui ci aspetta sia un mondiale in giappone sia un europeo in casa a roma e sono esercizi nuovi sono esercizi che magari non si aspettano da noi e vogliamo sorprendere un po quindi vedremo